In primo luogo non so cosa sia e in secondo luogo te lo puoi scordare. Un uomo che fa la vasectomia è come una donna che si chiude le tube, solo che è un'operazione più veloce e più sicura. Fattelo spiegare da loro. La vasectomia è una pratica chirurgica che ti rende mezzo. Sei mezzo. Ricordi il tubo che è piegato nel giardin, il discorso in sostanza è quello lì. Ok, adesso è più chiaro, ma come viene praticato? Un taglio sulla pelle dello scroto, poi si prende il vaso e si blocca per beni, con una pinza adatta si recide il tessuto di quel fatto, il tessuto di quel fatto, e tu non dovrai più usare il condom. Con tuo moglie o chi vuoi tu? Promettiamo di non dirlo, ti ricordi quella tizia, la bomba sexy che lavora con te, quella che ha sempre quei puntini dritti sotto la maglietta bianca di cotone fine, che ti fulmina con lo sguardo se cerchi di sbirciare sotto. Ma a che serve mettersi quella maglietta se non vuoi attirare l'attenzione? Certo non dovresti vederla in questo modo dopo l'incontro sulle molesti sessuali a cui avete partecipato voi tutti. Sinceramente ti ha convinto veramente e tu non hai potuto fare a meno di notare che l'avvocato donna del seminario aveva un gran davanzale. Era esagerato per una donna che deve parlare di certi argomenti con un pa' di serietà. Immagino sia questa la vera definizione della parola ironia. Ciao ciao, mascolinità Ciao ciao, belle donne Ciao 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 Ai bambini come me Sai quel che fai?